Allora, prima di dire due cose, facciamo solo un pezzo di effetto. La serata è tutta per te, ci mancherebbe altro. Cioè no, che poi devo chiamare anche Gianni perché l'abbiamo trascurato. Perché Gianni va bene, noi è un collega, andiamo via insieme, Gianni. Però Gianni fa finta di non sentire niente. Dopo lo chiamiamo. Ci deve dire però quanti chilometri fai lì. Innanzitutto ringrazio i Vici del Fuoco di Torino e Ivrea per la bella partita di calcio che l'hanno organizzato. Ma fatemi cercare anche per farci farlo. Forse ho avuto modo di giocare con degli amici che erano d'anni che non giocavano. Poi ci avete dato una divisma e sembravamo dei calciatori. Per cui grazie ancora per la partita. Grazie soprattutto per quello che fate quotidianamente. Perché la gente si ricorda di voi purtroppo quando succedono i terremoti, i fatti di Genova e altre catastrophe. Ma voi quotidianamente andate oltre quello che è il vostro lavoro. Tutti i giorni ci mettete del vostro per cui veramente tutti i giorni bisognerebbe ricordarsi di voi. Grazie col cuore. Adesso abbiamo un piccolo pensiero per Nicola. Comunque Nicola quando l'abbiamo conosciuto l'abbiamo accettato. Si è sentito già quando è arrivato. Perché è la risata unica in Italia. Però l'abbiamo penso adottato noi a Salassa. È diventato un fratello adottivo penso per Armando, per Flavio e per molte di voi. E quando c'era da lavorare Nicola c'è sempre stato e anche duramente. Lo dico anche sia come membro volontario della protezione civile che come sindaco. Quando c'era bisogno Nicola ci ha sempre aiutato. Per quello ci ricorderemo sempre di Nicola. E come ho detto anche stamattina, oggi pomeriggio a lui, le porte di Salassa per Nicola saranno sempre aperte. Sarà sempre il terreno. Il consiglio non va niente. Ti corrego, giustamente il mio collega dice che anche le cantine non ricorda essere aperte. Anche le cantine. Tutto qua. Questo è un piccolo pensiero da parte della protezione civile di Salassa e San Polso per Nicola che ci ha anche aiutato molte volte in casi in cui c'era bisogno con la sua esperienza e tutta. Non estremi, diciamo. Non estremi, no. Non facciamo cose estremi. Cosa serve? Cazzo civico! C'è una piccola pagamena del comune. Apri e apri. Se vuoi leggere, dai, sì. E a nome di tutta la giunta e penso di tutto il paese. Qua ci sono anche degli altri consiglieri del comune di Salassa per cui è a nome di tutti. C'è anche la prima di miacchetta Roberta. Tramai. Eccolo, ho saputo che sei già fidanzata. Vabbè... Stai conciuto! No, 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 no. Lo vedo? Se avete piacere, se avete piacere... Grazie... Bravo! è stato un piacere conoscerti, la tua simpatia, la tua disponibilità, la tua risata sono entrate nei nostri cuori ogni volta che vorrei tornare qua, le porte di salassa saranno sempre aperte per te il sindaco, il vice sindaco e il vianghietta Roberta che oggi non c'è, stasera non c'è è in tutto il paese per il suo applauso l'ultimo, il pazzetto è così, questo è Nicola, anche alla barra, un po' mi somiglia, dai io finito, lascio la parola, grazie a tutti ancora di omaggiare Nicola Nicola è Nicola, ma per conoscere Nicola basta prendere la prima persona che passa lì fuori dopo dieci minuti Nicola non guarda se è ricco, se è povero, se è bello, se è brutto lui dopo dieci minuti ha fatto amicizia e penso che non ci sia nessuno, mancherà tutti per quello che fa perché è in compagnia Nicola e Nicola come la livella di Totò, guarda forse come la livella di Totò per quanto mi riguarda Nicola che va via, a me rimane un vuoto, un vuoto a me, un vuoto a Lorena e a tutti quelli che stanno conosciuti ma che per tutti, a tutti noi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti